La ricetta si chiama pasta, pasta alle zucchine, pasta alle zucchine, in porno, prima di che gli ingredienti, aspetta, la ricetta è pasta alle zucchine, allora pasta alle zucchine, ingredienti, va bene, si prende l'olio extravergine di oliva, un pezzettino di aglio, poi due zucchine, un po' di provola e di salame, un pezzettino, e sono questi ingredienti, formaggio a bontà, formaggio parmigiano, non piccorino, non piccorino, formaggio parmigiano, e dico, ma quando hai detto formaggio a bontà? A bontà diciamo, non bello poco, no? Ah, formaggio abbondante volevi dire, e tu dici abbondante, che cazzo è? No, abbondante, abbondante, ed è così, allora prendete l'olio, un spicchio d'aglio, fatto pezzettine pezzettine, poi prendete quattro patate, cazzo di patate, ma che scontate? Che cazzo sta fuggendo? No, no, è bellissimo, guarda che la fanno questa cosa, prendete quattro patate, le montate per i piedi, poi le lavate perché poi si sporcano le patate, in effetto è bello, le lavate per i piedi, ma con detersivo cosa? Con detersivo? No, con le detersive, e poi le fate a dalene, a dalene, dopo fate tutte queste patate a dalene, che cosa dovete fare? Ho preparato l'olio, lo spicchio d'aglio, e poi ci mettete, ci mettete la salsa, mettendo la salsa, mettete anche le patate nella pentola, le patate, se le cucire il succo e le patate, si devono cucire, insieme il succo e le patate si devono cucire, si devono cucire, quindi dovete prendere acqua, ma scusa, ma tu mi diciamo fare un dialetto, ma che filo, ma che filo? No, cucire, cuocere, e che cazzo? Se tu mi diciamo fare un dialetto, e non cuocere, dici io, no? E' che c'è traveggio, ma già l'ha detto Excel, e fate cuocere, oltre tre quattro d'ora, perché parlate di ce l'ho, Ce l'ho cazzo, poi prendete la, la tiera, a pentola, come si chiama? A pentola, no, no, una cosa, no, a pentola, a pedofola, la signora, a pedofola, a pedofola, no non prendete il pedofilo che ha detto la signora la pirofila ah pirofila e pirofila e che la cosa? e che la teglia? la teglia, la teglia, ecco in dialetta, la teglia e cosa dovete fare? dopo che avete cociuto le patate facete un bello spalmo di cose un bello spalmo? ah no, i zucchini, dovete fare i zucchini, lavate i zucchini per le birre non che li avete montati, li lavate io so, era pasta con i zucchini e si aveva scordato i zucchini non vi cazzemi ieri le tagliate a fette, fettine e fettine poi che cosa dovete fare? prendete di nuovo un po' di olio, un specchietto di aglio uno specchietto di aglio uno specchietto un specchietto, va, come ti dici? che è successo? che ti hanno caduto? che in mano caduto, sapesse che in mano caduto fa ricocere 20 minuti perché i zucchini si cuociano questo po' di olio, però fa taffettino ti chiedo scusa, ti chiedo scusa per l'amor di tuo, non voglio assolutamente no? albero, ma credimi, si ti assentirà la registrazione a gente non ci ha capito una mazza che lo caccia, non ci hanno capito, come no? sta nevecando davvero? si, si, neve, dai io ti sto nevecando va bene, ci capisci, voi abbiate queste zucchine e le fate a fettine a fettine, agite e cucite bene bene un quarto d'ora, 20 minuti perché i zucchini sono belli morbidi e poi che cosa dovete fare? fate uno strappo di diciamo di patate con lo succo uno strappo? poi ci mettete un po' di zucchine di sopra salame, salame salame tagliate la salame, piccoli a dadini a provola, bella provola fresca tagliata? a dadini e fate uno strappo uno? tutto uno strappo e poi uno strappo e poi buttate la pasta non ti incazzare perché lo strappo che vuol dire? uno strappo uno strappo uno strappo uno strappo, si che c'è per te? uno strappo e tu hai chiamato sciarpo se ti vuoti cosa? ah, uno strappo che cazzo hai messo a fare? uno strappo di questa roba che vi ho detto e poi buttate la pasta beh no, la pasta no la pasta non deve essere molla cotta va la pasta non deve essere molla? la pasta non deve essere molla? non parevole non parevole non parevole? non parevole? e che pasta ci avete mentire regatoni mezzi regatoni che ci sono non di regatoni o pacchere no no mezzi regatoni mezzi regatoni che ci sono? sono comunque una razzetta ma liscia? lisci o regate? no no regate perché la liscia si impacciariene si impacciariene ma deve essere proprio cruda la pasta quasi ma si si deve cuocere 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 e poi mette tutta questa roba imbiscata con la cuciaia aggirata insomma bella e poi si mette un bello strato 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 di formaggio parmigiano cioè io pensavo che la roba rimania bella quasi come una torta come una torta e che cazzo e tu stai dicendo la rimania io dica perché dopo ci vuole il succo e il succo noi che tutti ce la mettiamo ah c'è sempre un bello strato di formaggio mettete vi resta un po' il succo ci vuole mettete il succo che cosa? il succo le patate sempre con le patate perché tu hai il succo con le patate e mettetele in suo corno vi mangiate una pasta al bacio